Race e Cross Italy, parliamo con Paolo Laureti, organizzatore di questa manifestazione, parliamo Paolo di ciclismo, ma di una Kermess davvero particolare. In cosa consiste? Sì, particolare perché si tratta di una gara di ciclismo di 809 km, 11.000 metri di dislivello, che praticamente parte da Silvi Marina, fa il suo giro di boa praticamente verso il Tirreno a Nettuno precisamente, per poi rientrare a Silvi. Quindi un percorso che attraversa Abruzzo, Lazio e Molise, attraversa i nostri parchi, alcune delle bellezze più importanti che abbiamo nella nostra regione. Parliamo di una manifestazione sportiva che però vuole coniugare sport con bellezze naturalistiche e bellezze della nostra regione. Esattamente, è un po' il nostro obiettivo, quello di creare una Kermess sportiva che si porterà, il progetto è quello che ovviamente non vede soltanto il 2014, come un anno in cui faremo questa manifestazione e si fermerà lì. L'idea è quella di un progetto importante che sarà portato negli anni successivi e questo sarà soltanto il nostro punto di partenza per sviluppare sinergie anche con le altre province, con le altre regioni che toccheremo, per portare un turismo importante nel centro Italia. Alessandro Cichella, delegato allo sport del Comune di Silvi. L'amministrazione comunale vuole puntare sempre più sullo sport. Perché? La nostra amministrazione si propone di utilizzare lo sport come strumento per veicolare sempre più persone a Silvi, quindi utilizzare il territorio di Silvi per grandi eventi sportivi sia di natura nazionale che internazionale. e quindi cominciando, diciamo, già dal mese di settembre a programmare anche con le associazioni, quindi essendo aperte tutte le soluzioni o tutti i suggerimenti che ci verranno dati, proprio per programmare non solo la prossima stagione turistica, ma già dalla prossima primavera, portare eventi che siano in grado anche di anticipare la stagione.